Oggi è il 6 gennaio 2019, è il giorno dell'epifania. Noi del C6 vogliamo che la metropolitana 3, linea gialla, ci sia e sia prolungata fino a Pauno. Niente compromessi, nessuna soluzione alternativa. Siamo arrivati qui, in questo comune di Milano, che con le sue scelte sta negando salute e mobilità ai cittadini del sud-est Milano. Su, Befana, lascia il carbone del comune che prospetta il DRT come soluzione. Siamo arrivati qui, in questo comune.